Musica Ben ritrovati dalla redazione di TVL per questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale andiamo subito al sommario per vedere quali sono i principali argomenti che approfondiremo questa sera i titoli Scasse illuminazioni, rischi allagamenti, problemi dovuti al traffico pesante che attendono una risposta sono i disagi lamentati dalla gente di case nuove di Masiano, riunita in comitato per i quali hanno raccolto una petizione di oltre 400 firme La produzione di mais in Val di Nievole potrebbe ridursi sino al 40% per ogni ettaro coltivato e l'allarme lanciato da Coldiretti La causa sono i ritardi nella semina per il maltempo e le razzie di semi fatte dai volatili In questi giorni una truppa di TVL è lungo il cammino portoghese che porta a Santiago di Compostela per realizzare un programma del gruppo Corallo sulla nostra emittente, uno speciale dedicato al progetto Conta la rovescia per il terzo Quarrata World Music Festival l'appuntamento dal 28 al 30 giugno a Villa Lamaggia Sul palco Enzo Cragnaniello, Antonella Ruggero e il duo Serena Pisa e Viviana Canzano È nato un nuovo settore giovanile della FC Pistoiese un progetto a lungo termine, ambizioso, allestite tutte le categorie dall'Academy alla Juniors 19 e il femminile Questa sera tanti argomenti, spazio anche alla politica con la chiusura delle campagne elettorali ma andiamo a case nuove di Masiano, alle porte di Pistoia con Alberto Cambuli per capire quali sono i problemi lamentati dai residenti Il comitato è nato da pochi nativi però poi è notevolmente aumentato il numero delle persone che vogliono aderire al comitato perché questa partecipazione è proprio dettata dalla mancanza di realizzazione di progetti che abbiamo visto nel tempo per cui la gente stanca vuol vedere realizzate queste opere che sono necessarie per il paese Sono 402 le firme sottoscritte a case nuove di Masiano su iniziativa del comitato nato per far fronte a vari problemi sul territorio Scarsa illuminazione e fossette intasate in via vecchia Casalina con rischio di allagamenti risposte sulla variante a via di Ramine per sgravare il traffico dai mezzi pesanti un parcheggio pubblico, come annunciato, nel centro del paese Richieste già pervenute all'amministrazione comunale di Pistoia il Consorzo Mediovaldarno e la Regione attraverso vari incontri avuti tra i cittadini e le istituzioni a partire dal 2023 Ancora nessuna risposta, tuttavia, per i vari problemi che col tempo si intensificano e diventano un rischio sempre maggiore per l'incolumità dei residenti Publie Acqua su PNRR sta facendo alcuni lavori importanti di rimpiazzo dell'intubazione dell'acqua su via di Montalbano da Bonelle, il paese di Bonelle, a Casenuove Noi vorremmo che arrivassero fino al confine con il comune di Serravalle mentre sul piano sembra che non sia così e poi vorremmo anche sapere se verrà messa in sicurezza oppure no strisce pedonali illuminate, dissuasori per la velocità Altro punto importante, sempre sui lavori di sicurezza in via di Ramini, questa volta, e in via vecchia Casalina Strette, maltenute e poco visibili come dimostrato anche nell'ultimo allagamento quando è venuta una macchina dei vigili urbani è caduta proprio in una fossa perché non si vedeva Poi vorremmo sapere la tempistica di progettazione della variante di via di Ramini esiste sul piano unico di mobilità sostenibile però non l'abbiamo vista ancora realizzata e questa eliminerebbe tanti problemi di sicurezza sgravando il traffico da via di Montalbano Poi si è prevista la realizzazione del parcheggio di cui abbiamo parlato dalle poste centrali e l'area ex cava lì vorremmo un parcheggio perché la sera non sappiamo dove parcheggiare la macchina in paese e poi quando ci verrà consegnata la relazione circa la nostra questione della chiusura al libero transito di un tratto della via vecchia Casalina che è stato interrotto da un privato 30 e più anni fa e lo vorremmo riaprire E ora parliamo della situazione di produzione agricola in Valdinevole in particolare ci sono problemi per quanto riguarda il mais a lanciare un allarme, è stata a Col di Retti Questo è il mais che si era stato potuto seminare nei giusti tempi ad oggi doveva essere almeno 30-40 centimetri più alto e con il doppio numero di foglie La produzione di mais in Valdinevole potrebbe ridursi sino al 40% per ogni ettaro coltivato e l'allarme lanciato da Col di Retti una condizione prodotta da alcuni fattori il primo è stato in ritardo nella semina causato dalle piogge di maggio e che ha fatto sì che circa il 20% dei terreni restassero incolti Le razzie di semi fatti da piccioni e cornacchi hanno poi fatto il resto La conseguenza di tutto ciò, spiega l'associazione agricola è che le piantine hanno oggi foglie troppo piccole non riuscendo così a creare il microclima necessario a sopportare il caldo estivo La variabilità ed i fenomeni estremi sono oramai naturali ha commentato Paolo Giorgi, produttore di mais usato per l'allevamento dei bovini della sua azienda in Valdinevole e a farne le spese, ha aggiunto, è l'agricoltura L'appello è così quello ad accelerare la creazione di una rete in invasi di piccole e grandi dimensioni stimolando investimenti di imprese ed enti pubblici I dati attuali della raccolta dell'acqua piovana destinata da cittadini ma anche aziende ha ricordato ancora Giorgi documentano nel nostro paese un 11% Nelle parole di Giorgi rilanciate da Coldiretti Pistoia l'invito a garantire agli agricoltori la possibilità di irrigare i campi indicata come priorità per aumentare la produzione nazionale riducendo la dipendenza dalle importazioni rifornendo il mercato di prodotti di alta qualità e ad un giusto prezzo Ad è stato preoccupazione tra i padroni di animali domestici la notizia di una sospetta polpetta avvelenata gettata in terra nei pressi del villaggio Scornio a Pistoia, lato ferrovia una notizia rimbalzata nel pomeriggio sui social la situazione sembra essere rientrata la polpetta è stata gettata via anche per il periodo novembre 2023-ottobre 2024 la regione toscana riconoscerà le aziende un rimborso per i capi di bestiame uccisi dai lupi è stata infatti confermata la possibilità per le piccole, medie e micro imprese che svolgono attività di allevamento e che operano sul territorio toscano di fare la domanda di un rimborso per i capi uccisi da predatori selvatici appartenenti come lo sono i lupi a specie protette apriamo ora la pagina politica andiamo ad Aliana giornata di chiusura della campagna elettorale verso il ballottaggio cominciamo con il candidato del centro-sinistra Del Fante si chiude al circolo San Nicolò di Aliana la campagna elettorale del candidato sindaco per il centro-sinistra Guido Del Fante in vista del ballottaggio la segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein viene ad Aliana per dare il suo sostegno al candidato il centro-sinistra come fa a vincere il ballottaggio? mobilitando la sua straordinaria comunità e spiegando alle persone che il voto fa la differenza la fa e come? perché se non votiamo decidono altri per noi e abbiamo dei candidati che vogliono migliorare la qualità della vita delle persone mettendo al centro il diritto alla salute perché questa destra sta tagliando la sanità pubblica mettendo al centro la dignità del lavoro perché stanno bloccando la nostra proposta sul salario minimo e cercando di affrontare l'emergenza climatica creando nuovo lavoro e buona impresa attraverso l'energia rinnovabile la mobilità sostenibile insomma tanti sono i progetti che portiamo avanti in maniera collettiva quindi noi siamo fiduciosi per questi ballottaggi e speriamo che le persone tornino a votare è importante hai per vincere il ballottaggio dieci punti da recuperare rispetto al tuo avversario Luca Venesperi come intendi recuperarli e che giudizio dai di questa lunga campagna elettorale è stata una campagna elettorale bellissima lo dimostra quante persone sono oggi qui non solo perché oggi arriva Ellie a sostenerci nella conclusione di questo bellissimo percorso ma perché è stata una campagna partecipata sentita e territoriale è vero ci sono dieci punti di distanza ma in realtà abbiamo visto in queste settimane le persone di avvicinarsi ancora di più e sentire la possibilità di ribaltare e di cambiare Quali voti puoi intercettare? Sicuramente le persone che non sono andate a votare quindi siamo andati casa per casa a parlare con le persone che hanno una disaffezione verso la politica abbiamo sicuramente riparlato con le persone che mi avevano votato al primo turno e mi auguro appunto che le persone che hanno fatto una scelta diversa e quindi con altre liste non solo appunto 5 Stelle che ci sosterranno in questo ballottaggio ma anche le altre liste facciano un voto di coscienza e decidano di cambiare E ora il primo cittadino uscente ascoltiamolo nel servizio di Lorenzo Gori il servizio con il caderno del centrodestra Luca Benesperi A due giorni dal voto Luca Benesperi sindaco uscente del comune di Aliana fa un bilancio della campagna elettorale e sceglie proprio il parco di Carabattole luogo simbolo secondo il primo cittadino uscente della rinascita di Aliana Abbiamo deciso di chiudere la nostra campagna elettorale qui al parco di Carabattole che è un luogo simbolo della nostra città un luogo che la mia amministrazione ha fatto rivivere gli ha donato nuova vita qua durante l'estate c'è un'animazione tutte le sere da maggio a settembre lo vogliamo far continuare a vivere lo vogliamo potenziare senza per questo scordarci del centro cittadino anzi devono vivere Carabattole il centro in parallelo abbiamo condotto una campagna elettorale pacata basata sui temi basata sui contenuti anche agli attacchi abbiamo sempre risposto col sorriso perché noi siamo abituati così è stata una campagna lunga una campagna impegnativa noi ci siamo presentati agli elettori con il programma molto simile a quello nel quale ci siamo presentati cinque anni fa abbiamo spiegato alla gente che cosa abbiamo fatto che cosa non abbiamo fatto e vogliamo fare nel prossimo mandato tanto è stato fatto molto rimane ancora da fare per questo chiedo di nuovo la fiducia dei cittadini agli anesi affinché nel secondo mandato possiamo portare a termine i tanti progetti sui quali stiamo lavorando ed ora andiamo a Monsummano dove invece il sindaco Simona De Caro ha presentato la nuova giunta una squadra nel segno della continuità con la passata amministrazione Massimo Pannocchi tre uomini e due donne la nuova giunta del sindaco di Monsummano Terme Simona De Caro riconfermata alle ultime elezioni si presenta nel segno della continuità queste le deleghe distribuite dal sindaco per il mandato dei prossimi cinque anni Monica Marraccini che è anche vice sindaco si occuperà di bilancio tributi, cultura, turismo e industria 5.0 Angelo Crisci è assessore ai lavori pubblici alla protezione civile alla mobilità urbana e al verde ad Andrea Mariotti unica novità della nuova squadra della De Caro già assessore nelle giunte Calvetti e Vanni vanno le deleghe all'urbanistica e le società partecipate Roberta Dotto responsabile del sociale delle politiche per la casa e per la disabilità e le pari opportunità infine Libero Roviezzo è assessore allo sport dall'impiantistica sportiva all'ambiente e alla polizia municipale pubblica istruzione edilizia scolastica progetti strategici e personale restano di competenza del sindaco la scelta è stata dettata anche dal risultato che è stato ottenuto a queste elezioni amministrative quindi era secondo me doveroso che anche gli assessori proseguissero nel lavoro iniziato in questi anni una giunta che dovrà continuare e proseguire ma ci saranno delle priorità su cui dovrà appunto agire nelle prossime settimane già dalle prossime giorni devo dire che abbiamo personalmente ho già iniziato a lavorare la priorità la prima priorità sarà quella di veramente vedere iniziare i lavori per il nuovo asilo nido per il quale abbiamo proprio durante a pochi giorni dalle elezioni ottenuto un finanziamento di 600 mila euro l'ex tribunale quella parte del tribunale è rimasto sono i luoghi in cui sorgerà il nuovo asilo nido per 30 posti l'insediamento ufficiale del sindaco e del nuovo consiglio comunale è previsto giovedì 27 alle 15 nella sala Iozzelli Cronaca girava per Pistoia con una spranga in metallo di oltre 40 cm per questo un 39enne è stato fermato dalla polizia la segnalazione è arrivata anche da una chiamata al numero unico 112 nella quale si parlava di un uomo che con fare aggressivo si aggirava in alcune vie cittadine fermato il 39enne è stato portato in questura dagli accertamenti è emerso che a suo carico c'era un aggravamento di una misura cautelare in carcere per non aver rispettato un obbligo di firma a seguito di una rapina portato alla casa circondariale di Santa Caterina è stato denunciato per il reato di porto d'armi o oggetti atti ad offendere via libera via libera a Pievanievole per un servizio di battugliamento notturno da parte della polizia municipale arriva così il progetto lanciato dall'amministrazione della sindaca di Olaiuti servizio che sarà attivo una volta a settimana dalle 18 alle 24 poi se le circostanze lo richiederanno spiega al comune sarà valutato un turno dalle 19 all'una adesso parliamo un po' di noi in questo momento una nostra truppa si trova lungo il cammino portoghese uno dei cammini spirituali che portano a Santiago di Compostela per fare cosa ce lo spiega il nostro Simone Gai Buonasera telespettatori del nostro Tg ci troviamo in una location un po' diversa dalla nostra Toscana infatti siamo al confine tra il Portogallo e la Spagna alla mia destra la città di Valenca e alla mia sinistra la città spagnola di Tui e cosa facciamo qua? Stiamo raccontando il cammino di Santiago il cammino portoghese per una produzione corallo che prossimamente vedrete sui nostri schermi il cammino portoghese è un cammino importante uno dei più antichi noi l'abbiamo fatto partendo dalla città di Porto per arrivare giustamente a Santiago la città di Tui che ci ospita per questa notte è una città fantastica una città di origine romana che pensate ha dei legami con la Toscana perché nella iglesia di Santo Domingo di San Domenico ha soggiornato Cosimo III dei Medici prima di diventare granduca quando era un principe molto religioso effettuò il cammino portoghese abbiamo conosciuto la città di Tui abbiamo conosciuto anche l'assessore al turismo che ci ha raccontato quanto è importante questo cammino per questa città noi vi lasciamo all'intervista e poi vi ricordiamo che questa sera subito dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale dedicato a questo importante cammino che stiamo effettuando il cammino di Santiago è per Tui senza dubbare uno dei grandi valori della nostra città è una delle nostre segni di identità e è anche un gran valore che apporta economia a questa città ademais di identità come diceva antes però anche ci apporta cultura mille di persone di procedenza di tutto il mondo di tutto il mondo che riempisce la nostra città insisto non solo economicamente sino socialmente culturalmente e in tutti gli ambiti che possono apportare i peregrini che passano per questa città la proposito di culture che si incontrano dai cammini alla musica Quarrata tutto pronto per il terzo festival di World Music di Villa La Magia dal 28 al 30 ci racconta tutto Lorenzo Gori terza edizione del Quarrata World Music il festival dedicato alle musiche del mondo che si svolgerà anche quest'anno nel parco dei ciclamini della Villa Medicea La Magia tre concerti dal 28 al 30 giugno organizzato dall'amministrazione comunale Quarratina il patrocinio della regione Toscana e il contributo di Toscana Energia tre concerti il primo dedicato alla musica contemporanea napoletana Enzo Gragnaniello con il suo nuovo tour ricordiamoci l'importante collaborazione con Roberto Murolo e con Mia Martini di diversi anni fa che decretò un importante momento della appunto della contemporaneità della musica napoletana dopo Enzo Gragnaniello sarà la volta di Antonella Ruggero con un progetto che lei ha costruito insieme alla banda di piazza caricamento la banda di piazza caricamento di Genova è un'orchestra multietnica dove si sono incontrati più di dieci musicisti provenienti da varie parti del mondo dal nord africa a paesi balcani ai paesi sudamericani creando appunto questo progetto che si chiama sconfinando chiuderà la nostra rassegna un duo un duo che ha iniziato in questi giorni un tour europeo Serena Pisa e Viviana Cangiano note anche come Ebbanesis due musiciste napoletane anche loro che riscrivono secondo i dettami e il gusto della musica napoletana grandi successi internazionali questa acquarrata sarà una delle prime date in Italia a parte diciamo gli appuntamenti televisivi che hanno che le hanno viste protagoniste quindi vi aspettiamo a partire dal 28 di giugno alla Villa Meliscia la Magia allora alcune notizie che riguardano la sanità negli ospedali dell'Asla Toscana Centro il parto diventa gestione autonoma ostetrica con la gravidanza eseguita in consultorio da un'ostetrica poi il travaglio del parto con l'ostetrica dell'ospedale un cambiamento che fa seguito spiega l'Asla dalle indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità e il ministero della salute e riguarda soltanto le gravidanze a basso rischio nel caso in cui si presentassero parte delle problematiche viene richiesta la consulenza di un medico che può confermare il percorso oppure orientarsi per una gestione condivisa medico-ostetrica un percorso che è partito il primo giugno già dieci le coppie che hanno potuto partecipare a questo progetto tre di queste al San Jacopo di Pistoia e da proposito di sanità che si mischia al sociale per il sesto anno la farmacia comunale pistoiese hanno pubblicato un bando di sponsorizzazione da 54 mila euro per le associazioni di volontariato un contributo che premia progetti in ambito sanitario sociale e sportivo e può essere richiesto fino al mezzogiorno del 28 giugno verranno concesso a progetti e iniziative di carattere collettivo preferibilmente aperti alla partecipazione senza scopro di lucro tutti i dettagli sul sito di tvl ed infine a proposito di sociale riqualificare spazi ad uso pubblico di proprietà pubblica o privata in stato di abbandono o comunque non adeguatamente fruibili e allo stesso tempo assicurarne la cura nel tempo anche favorendo la ricreazione di iniziative sociali culturali ricreative e sportive sono le opportunità offerte dal bando piccole bellezze della fondazione Caripit che per questo ha messo a disposizione 200 mila euro destinatari enti del terzo settore privati senza scopo di lucro ecclesiastici religiosi e quant'altro i dettagli anche qui in questo caso sul sito della fondazione Caripit e con questo è tutto per la prima parte del telegiornale vi ringrazio per l'attenzione vi lascio allo sport ci ritroviamo subito dopo